Interventi antidegrado nei cimiteri di Como con manutenzioni del verde e dei manufatti. Al Camposanto di Briccia è stata completata la manutenzione straordinaria dell'alberata interna, così come al cimitero di Rebbio con gli interventi sulle alberature sia esterne sia interne insieme alla pulizia delle grondaglie e alla sistemazione del piazzale con l'abbattimento delle piante dove necessario. Sono invece in corso gli interventi nei cimiteri di Rebbio, Camnago e Montolimpino con l'automazione dei cancelli e l'abbattimento delle barriere architettoniche per un importo di circa 45.000 euro. Al cimitero di Montolimpino è stato portato a termine il rifacimento completo dei servizi igienici. Ad Albate sono stati affidati lavori per 73.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente destinato a servizi igienici e camera mortuaria. La consegna è prevista a settembre. Infine sono stati completati gli interventi di manutenzione e di realizzazione di nuove tombe nei cimiteri cittadini, compreso il monumentale, per un totale di 50.000 euro. Sono stato delegata a occuparmi anche della manutenzione dei cimiteri cittadini un anno fa, commenta l'assessore Francesco Pettignano, rilevando la necessità di diversi interventi dopo anni di incuria. Nonostante le difficoltà a garantire nel breve periodo la copertura economica per i tanti interventi che sarebbero necessari, siamo riusciti a ripristinare una situazione decorosa come meritano questi luoghi della città.